Buongiorno, buongiorno players! Anche in viaggio, come potete denotare, non posso esibermi dal farmi il video report di giornata. Inizia l'undicesima giornata e quindi facciamo il recap della decima, anche perché stiamo per toccare l'apice dei campionati italiani 2.24. Il main event si chiude a quota 199 ingressi con la late registration e alla fine dei giochi 26 player in Bussaro per il day 3, dove si sfideranno a livello di 80 minuti. In prima posizione del count battista Domenico con 584.505. Si è tenuto anche il campionato italiano Pro Day 1 e dei 53 ingressi registrati, il field si è ridotto fino agli ultimi 8 che rimandano alla corsa al bracciale. Alle ore 14, a partire proprio dall'inizio della diretta del Tipo Table, mentre abbiamo assegnato al podio dell'Hercules e a vincere è Giovanni Draghi. E quindi oggi alle 14, oltre appunto allo start del campionato italiano Pro in Tipo Table, abbiamo lo start dei tre del main e del campionato italiano 8 Max. Alle 17 il Tournament of Champions con tanto di Tipo Table e all'evento ci salutiamo con il campionato italiano in the bottom. Ci ha dato tutti la prossima giornata.